aspettate solo un attimino alex vieni fammi luce anche tu ma perchè non usiamo il gps? si non prende granché no 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 non serve io voto per il gps idem perchè sennò rimaniamo qui tutta la notte certo che avete una fiducia nei miei confronti smisurata eh c'è qualcuno? torri ade! torri ade!